Un gruppo di rapinatori ha tentato un colpo in un supermercato Eurospina da Cicatena a Catania utilizzando una pala meccanica per sfondare le vetrine nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo. Nonostante i danni considerevoli causati, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla. L'azione è stata sventata grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri di Ace Reale. La banda aveva appositamente rubato un escavatore da un cantiere d'Ile nelle vicinanze per effettuare il crimine. Tuttavia non avevano considerato l'allarme silenzioso del supermercato connesso alla vigilanza nella prontezza di risposta dei carabinieri in zona. L'allarme è scattato verso le 3.30 del mattino attivando rapidamente le forze dell'ordine già in servizio nella zona. L'arrivo celere dei carabinieri ha sorpreso i rapinatori costringendoli a una fuga precipitosa senza aver rubato nulla. Sul posto i militari hanno eseguito rilievi tecnico-scientifici sul mezzo utilizzato e per sfondare le vetrate acquisendo inoltre le immagini di video sorveglianza per l'identificazione dei partecipanti al tentato colpo. Nonostante i danni materiali, il supermercato ha evitato la perdita di beni dimostrando l'efficacia dell'allarme e l'intervento rapido delle forze dell'ordine nel contrastare l'azione criminale. Grazie per la visione!